Un incontro di educazione civica rivolto a famiglie e cittadini si è tenuto nei giorni scorsi all'interno dell'oratorio salesiano ad Andria un evento divulgativo organizzato dall'Istituto Vittorio Emanuele III Dante Alighieri con l'affattiva collaborazione del Calcit. Il nostro intento come Comitato Autonomo lotta contro i tumori è quello di partecipare alla crescita della cittadinanza attraverso l'insegnamento, la proposizione di una sana alimentazione e di corretti stili di vita per creare il cittadino responsabile di domani. Alla serata particolarmente apprezzata dalla comunità scolastica della storica scuola andriese hanno partecipato alcuni dei professionisti che fanno parte dello staff della Grande C. Il progetto dedicato ai malati oncologici ideato dal Calcit si è parlato di cibi sani, di rischio in caso di alimentazione errata, del significato di un gesto così naturale come quello di mangiare. Si è parlato insomma di saluti a tutto tondo grazie alle relazioni del dottor Gadaleta, direttore dell'oncologia medica dell'ospedale di Miccoli di Barletta, ma anche della dottoressa Cipriani, biologa nutrizionista e della dottoressa Petronelli, psicologa e coordinatrice provinciale dell'Ant. Professionalità che hanno portato all'uditorio dei concetti fondamentali che sono stati recepiti con tanto interesse a tal punto che alla fine numerosi sono stati i quesiti presentati ai relatori dagli alunni che numerosissimi hanno partecipato alla serata. L'associazione andriese che si occupa di malati oncologici da ormai quasi 40 anni è nata proprio all'interno di quell'istituto e la collaborazione tra i doenti prosegue da decenni con rinnovata enfasi in questi ultimi anni. La serata è stata un altro momento fondamentale della collaborazione tra il Calcit e la scuola media Vittorio Emanuele III Dante Alighieri, la cui dirigente, la professoressa Natale, ha caldeggiato questa collaborazione, questo incontro che arriva dopo il Giardino dei Ricordi, l'evento che insieme alla scuola e il Calcit ha realizzato nel 2019. Grazie 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 Grazie